Portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere l'arte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Tu ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano, nella mano, passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere l'arte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù! Dove sta uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano, nella mano, passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere l'arte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Diego Pasquali, Rosa Sorrentino, che bravi che siete stati! Grazie. Laura, Epricianda, stile della casa. Laura, come li hai trovati? Brava, bravissima, bravissima. Che te? Che devo dirti? Ma io vedevo me stessa, pettinata uguale. Che bello, che buzzi, veramente. Che bello, che bello, che bello. Grazie. Grazie.